Billo è finito la modellazione Grazie a tutti Grazie a tutti È finito Billo in Creta È arrivato il materiale per fare lo stampo E domani cominciamo a fare lo stampo per produrre questa opera d'arte dedicata al più grande clown internazionale di Ravenna Billo Claucircus Tutti mi chiedono ma che cosa sta pensando Billo? Qualcosa sta pensando? Si avverte? Lo scopriremo Billo sta pensando qualcosa ma cosa starà pensando? Scopriamolo Non lo abbiate pure che è appena freddo, scopriamolo Grazie a tutti